Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi sabato 15 giugno, insomma lo state vedendo il tempo non è che sia esattamente così bello da queste parti e neanche diciamo che è l'area che si ripira sui giornali perché oggi la questione fondamentale è il cosiddetto toghe sporche o comunque il casino durante del CSM e oggi il tema sono non solo le dimissioni di lotti, dimissioni dal Partito Democratico, autosospensioni dal Partito Democratico per il momento, ma tutti quanti gli schizzi politici e diciamo di intercettazioni che stanno arrivando. Andiamo dunque per ordine, saluto Carolina, Emma, Andrea che si sono collegati su Facebook e tutti gli altri che invece si stanno collegando in questo momento in diretta su Instagram. Allora cosa è successo? Dal punto di vista intercettazione il titolo più significativo è quello di Repubblica, così affossavo l'inchiesta Consip. Sostanzialmente c'erano le intercettazioni che oggi sono su tutti i giornali, soprattutto su Repubblica e il Corriere della Sera, ci sono queste intese tra Palamara e Lotti che è indagato per il caso Consip per riuscire a cercare di insabbiare la Procura di Roma e l'inchiesta che lo vedeva imputato. Inoltre dice Lotti in queste intercettazioni a tutti quelli che stavano lì vicino a lui che aveva incontrato al Quirinale le persone che contavano, mentre invece il vicepresidente del CSM neanche i bagni veniva ricevuto al Quirinale, del tutto millanterie queste, anche perché il Quirinale ha fatto una nota, più che la nota del Quirinale, quello che ci interessa capire è che lui diceva che al Quirinale poteva andare addirittura Pignatone, il procuratore che era andato in pensione, mentre era già da mesi che se ne era andato via il consiglio giudicico del Quirinale e già da mesi avevano scelto il suo successore. Insomma sembra che quelle di Lotti nei confronti di questi 5 magistrati fossero, non so, veramente come diceva la Raggi, 5 amici al bar che se le raccontavano di minchiate e di millanterie, però cercavano in tutti i modi di evitare, insomma di trescare perché si facesse qualche cosa. Insomma io la trovo più una farsa che un dramma quello che ci vediamo. Buongiorno a Orson che vedo ogni tanto che si collega, anzi si collega spesso e gli rispondo molto tardi in chat, quindi lo saluto. E quindi diciamo che a parte il lato farsesco di questa vicenda c'è il solito male a fare della commistione tra politica e magistratura. Però forse la cosa più tranchant oggi su questa vicenda, buongiorno vedo Attilio che si è collegato, è il pezzo di Giuliano Ferrara e cioè sul quale tutti quanti noi dovremmo riflettere per un attimo tigliandoci fuori dalle simpatie, antipatie nei confronti dei Lotti, della magistratura, di Palamara eccetera. Dice Ferrara se avessero messo un Trojan sul mio telefonetto, io oggi sarei in galera. Penso la stessa cosa del sottoscritto, anche perché sia Ferrara sia il sottoscritto non siamo magistrati, quindi nei nostri confronti non si ha nessun atteggiamento di rispetto. Siamo dei giornalisti, siamo dei cittadini quasi comuni, ma i giornalisti forse hanno un pizzico di attenzione in più rispetto ai cittadini comuni, ma comunque con un Trojan sui nostri cellulari le nostre frasi potrebbero essere state spiattellate sui giornali, tolte dal contesto, le nostre millanterie potevano essere e diventare causa per Ferrara e per Porro di arresto immediato. La penso esattamente come lui, a dispetto di quei cornuti che ancora dicono intercettateci tutti e se non abbiamo nulla da nascondere nulla ci farà una microchip nel nostro cervello. Macellano loro il microchip nel loro cervello. Lotti però si dibatte perché si dimena, dice a tante cose al PD prima di autosospendersi e di Zanda che ieri chiedeva su Repubblica e ve lo ricordate le sue dimissioni, dice ma chi è lo stesso che partecipò a una steduta spiritica per quanto in quella tremenda vicenda dell'affare Moro? Ricordando quella steduta spiritica a cui partecipò anche Prodo in cui avevano evidentemente una soffiata di dove fosse il rifugio di Moro ma si sbagliarono tra una via e il lago e quindi non pizzicarono Moro e Moro poi sappiamo bene tutti come finì la vicenda. Insomma è quello Zanda là sussurra mica tanto Lotti e ancora dice il ministro della giustizia Orlando non ha mai avuto atteggiamento e simpatia con simpatos, un sentire comune con i magistrati quando dovette piazzare, dice esplicitamente come capo della procura di Napoli il suo capo di gabinetto Melillo, questo chiede in maniera diciamo retorica Lotti, Franco dice e nota una cosa che forse non è chiara a tutti quanti che la Lega su questa vicenda è molto ma molto prudente e non sta sparando su quello che per ora mi sembra uno scandalo che coinvolga soprattutto magistrati e PD. Sallusti dice Lotti l'hanno fatto fuori, parliamoci chiaro solo per un motivo perché è Renziano ed è una grande battaglia tra Renziani e non Renziani nel partito oggi guidato da Zingaretti. Per fortuna che c'è Buonafede che in maniera stentoria dalla sua casa di Firenze, così ci ricorda la stampa, dice separerò le toghe dalla politica. Bisognerebbe separare l'accusa dai giudici, cioè le carriere dei magistrati, invece lui dice separerò le toghe dalla politica. Vorrei segnalare e questo forse lo segnala bene anche Ferrara che per statuto, per costituzione all'interno del CSM c'è la politica quando ci sono dei membri non togati ma laici che sono all'interno dei 24 componenti del CSM e che sono diretta espressione in Parlamento, insomma che ci sia una commissione tra politica magistratura purtroppo c'è ed è nei fatti. L'altra cosa che vi segnalo sono le fake news. Le fake news sono quelle che facciamo noi cattivoni, sovranisti, internet, parafascisti, non so, quelli che scrivono sul giornale oppure quelli che vengono bannati da Facebook, questi sono quelli che fanno le fake news. Io vi leggo oggi il titolo del Corriere della Sera. Paesi Ue intimano a Tria sei giorni per evitare le sanzioni. È falso, è semplicemente falso, non ci sono sei giorni per evitare le sanzioni, basta andare a pagina 20, 15 dove Ivo Caiazzi fa la cronaca di quello che avviene tra l'Italia e l'Europa e dice sei giorni semmai per evitare l'apertura della procedura che sarà in luglio. Quindi non sono sei giorni per le sanzioni con i paesi che intimano a Tria una cosa definitiva. No, sono sei giorni per trovare un accordo per non iniziare una procedura che poi eventualmente può portare a delle sanzioni. Quindi quello che hanno scritto è una cazzata, però siccome lo fa il Corriere della Sera lo può fare. Se l'avesse fatto qualcuno su Facebook probabilmente il grande giornalista unico e censore di Facebook l'avrebbe attribuito una fake news. Basta vedere pagina 1 e pagina 15 del Corriere e si vedono due cose completamente diverse. Repubblica, l'Europa presenta il conto 9 miliardi in sette giorni. Tutte stupidaggini, tutte stupidaggini. C'è un problema con l'Europa? Sì. C'è un problema con questa Commissione? Sì. Abbiamo un problema di deficit pubblico? Sì. Abbiamo un problema di eccesso di debito? Sì. Ma è vero che ci sono 9 miliardi che ci chiedono in prossimi sette giorni? No, è falso. Non c'è scritto peraltro neanche negli articoli dei giornali che fanno questi titoli da fake news. Ma andiamo avanti così perché se vogliono divertirsi si divertano. Salvini vola a Washington e vede vicepresidente Pence e quello molto più importante dal punto di vista politico il segretario di Stato Pompeo. Vi segnalo che Pompeo è ex uomo forte della CIA. Non vorrei fare dietrologo ma per diventare presidente del Consiglio in questo paese, forse un aiuto da parte di alcuni servizi americani, serve. Insomma direi che questo viaggio è importantissimo più che per l'Italia, per Salvini, per capire la benevolenza degli americani nei confronti di una possibile sua guida. Volevo sapere il tuo pensiero sulla possibile estradizione di Assange e gli USA. Queste sono questioni molto più complesse di cui non ne so neanche granché. Quali sono i temi che dovrà affrontare Salvini a Washington? Dice in un retroscena oggi i giornali. Innanzitutto del Venezuela, della posizione che, rispetto di quanto dice Mario Di Stefano, è una posizione che gli americani non capiscono perché siamo gli unici europei con Guaido, della Siria perché hanno chiesto a noi un aiuto militare per la Siria, dei nostri rapporti con la Belt Initiative, quindi con Belt and Road Initiative, della Cina, i nostri rapporti con la Cina e poi l'acquisto previsto e mai smentito dei 121 F35. Li compreremo o non li compreremo? All'America interessa molto e l'ossessione degli americani sono obiettivamente Cina e Russia, ma come detto questo viaggio per Salvini ha tutt'altro peso. Un viaggio invece meno affascinante, a piedi, ma altrettanto drammatico potrebbe essere, altrettanto drammatico, altrettanto importante è quello che ha fatto Cremonesi oggi, a parte le 15 prime righe di minchiate su Rousseau, sui paesi terremotati italiani che sono completamente abbandonati a tre anni di distanza e dimenticati da molti di noi. Sulla politica cosa succede? A retroscena di De Marchis c'è l'ideora di Casini. Casini, non contento di essere sopravvissuto la prima, la seconda, la terza e probabilmente la quintultima Repubblica del mondo, gli ha preso un'idea facciamo un partito di centro che non spiazzi troppo che sia tra la sinistra di Zingheretti e la destra di Salvini. Ovviamente gli spazi vuoti si tendono ad occupare in politica, quindi il centro oggi obiettivamente manca, ma qual è l'idea ora di Casini? Sentiamola, bisogna fare un partito di Renzi con Calenda e già mettere insieme i due è come mettere l'acqua e l'olio e mischiarli bene insieme e la front woman sapete chi sarà? La front woman di questo partito centrista, rullo di tamburi, sapete chi è? La Carfagna, giuro, questa è l'ideona di Casini, un bel partito Carfagna-Renzi-Calenda-Casini ovviamente perché immagino che lui sia dentro in cui immagino che ci siano le code che partono praticamente da Roma fino a Milano per votare ai seggi, questo straordinario partito. Le dieci ragioni invece di Cerasa perché Salvini oggi vada a votare il prima possibile perché la parabola del suo consenso elettorale potrebbe scendere, la parabola di quello che scende dei 5 stelle è morta, la parabola dell'efficienza del governo pure, insomma i dieci motivi se li volete sentire per quali Salvini dovrebbe andare a votare e assumersi così le responsabilità che Cerasa dice che Salvini non si assume, insomma lo leggete sul foglio. Ultima notizia di rilievo, si fa per dire l'intervista all'Appendino che ci spiega che la sua nuova Torino è senza automobili. Per quella che fu la capitale mondiale insieme a Detroit dell'auto del Novecento l'idea che il suo sindaco si auspichi una città senza automobili mi fa orrore, allora io mi chiedo se l'ambiente, l'inquinamento e tutte queste cose qua fossero davvero importanti, io vorrei, sapete cosa? Vorrei un sindaco di una città oppure un sindaco, un presidente, un ministro dell'ambiente, un assessore che mi dica spegniamo tutti i riscaldamenti delle città, cioè togliamo le auto, togliamo i riscaldamenti, no anzi i riscaldamenti diciamo che li possiamo tenere, ovviamente non bruciando la legna perché è la cosa più inquinante che ci sia, non bruciando il petrolio perché ovviamente quello fa male, bruciando il gas che è un po' meno inquinante, ma non togliamo i riscaldamenti, sapete che cosa facciamo? Togliamo tutti, tutti i condizionatori dagli uffici dell'Appendino perché noi non vogliamo le auto ma vogliamo stare a fresco, oggi io sto a fresco perché qua è brutto tempo ma in genere d'estate negli uffici pubblici c'è l'aria condizionata, 30 anni fa c'era, 40 anni fa c'era meno auto più aria condizionata, meno Fiat più Daikin o Mitsubishi o come cavolo ci piace, mi sembra una buona opzione per rispettare come possiamo dire l'ambiente soltanto quanto ci piace a noi. Un grande saluto a tutti quanti voi, Torino mai stata tanto sporca dice Simonetti Clotilde o Clotilde Simonetti, i condizionatori sono inutili, dice qualcun altro, io invece faccio a tutti quanti voi un grande saluto e vi do appuntamento sul mio sito per tutte le altre notizie della giornata, ciao!